ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video dove andremo ad realizzare quattro nell'arte natalizie quindi per natale andremo a fare la prima nell'arte una renna la seconda la terza nell'arte andremo a realizzare due popazzi di neve differenti e la quarta nell'arte andremo a realizzare la palla quelle che si metterò sull'albero di natale insomma la palla natalizia e adesso io vado a preparare l'unghia metterò il colore poi dopo riprenderò quando inizierò a fare proprio la nell'arte il disegno della renna e così anche le altre nell'arte scusatemi e niente ne approfitto lo dovevo fare di prima questo video ma come sapete ho iniziato a lavorare eccetera eccetera che lavoro adesso dal lunedì al venerdì e quindi non faccio in tempo a mettere video e dato che oggi è sabato comunque ne approfitto per fare ecco questo video su queste quattro nell'arte per natale se no non facevo in tempo dato che la prossima settimana tra due quello che è natale e quindi ne approfitto per farlo adesso che oggi è sabato quindi non approfitto e niente spero che poi questo video vi piacerà e vi lascio il tutorial di questo è quattro nell'arte e noi ci vediamo a fine video grazie a tutti 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 grazie a tutti